Il mio primo nome è Sarah Kennedy. Sono nata debole, sono stata praticamente sequestrata. Le hanno praticamente coibottate. Grazie a tutti. Sembra assurdo, incredibile, inverosimile. Qual è il tuo nome completo? Ti sto rispondendo. Qual è il tuo nome completo? Ti sto rispondendo. Qual è il tuo nome completo? Sei un imbecille, ecco. Sei un imbecille. Sei un imbecille, va bene? Ti cado? Ti cado, non è finto nulla. Tu non sei più sicura qui. Io adesso manderò qui delle persone che ti aiuteranno. Ma cosa ti ha dato Fodiana? Dei soldi pure a te? No, 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 no. Ti cado, non è finto nulla. Ti cado, non è finto nulla. Ti cado, non è finto nulla. Grazie a tutti.